Mi chiamo Bellini Laura, arrivo da un paese dell'Italia, precisamente dalla Lombardia. Ho conosciuto la clinica attraverso Instagram, ho preso contatti e subito ho deciso che sarei venuta qui per sistemare la mia situazione a livello di sorriso, perché ormai era diventata fonte di imbarazzo e avevo la necessità di prendermi cura di me stessa dopo un po' di vicissitudini. Quindi la decisione è stata presa nell'immediato, sono arrivata qui e sono stata accolta dal personale molto a livello familiare e ho fatto la mia prima esperienza chirurgica in tutta serenità. Il mio percorso è stato buono, sono ritornata per i definitivi e sono contentissima di aver riacquistato un po' di fiducia in me stessa. Mi hanno messo i provvisori che ho trovato subito, mi stavano giusti e mi hanno dato l'opportunità di cominciare comunque anche a livello di salute a stare meglio, perché la masticazione era molto importante e avevo problemi anche a livello di salute, oltre che a problemi di relazione con le persone. Ma non ho mai rinunciato a nulla in particolare, però siccome io faccio un lavoro che mi porta a stare a contatto con le persone 24 ore al giorno, era importante per me avere insomma un aspetto gradevole e che comunque migliorasse le relazioni. Sorridevo molto meno rispetto a quello che è il mio carattere abbastanza solare, perché insomma questo disagio era piuttosto evidente e quindi mi è cambiato proprio il rapporto con le persone. Torno a ripeterti che il sorriso è molto importante, è un buon biglietto da visita, quindi direi che è la prima cosa che uno deve cercare di mantenere bello, insomma. Io ho raggiunto il mio obiettivo dopo tanti anni.